Oh, penso che voi vi cammini, eh? Oh, sì che è. Maffi? Noi? Ma... Mi state prendendo in gi... Perché dovevo affrontare la tradizione... Oh, finalmente ora ho capito che cosa è successo ieri. Il piano perfetto è avan... Essere risolto con... Alla fine ce l'ho fatta. Già, tu sì.